Grazie a tutti gli amici che sono venuti stasera, ai musicisti, a tutti i gruppi, a tutte le persone che sono venute dall'Aquila, dalla Campania, che amano questa musica, grazie, e questo brano è soprattutto per artisti che vogliono fare di questo amore un lavoro, quindi vi dedico con tutto il cuore questo brano che si chiama Adesso, buon ascolto, buona serata ragazzi, grazie. 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 Non esiste un momento giusto, quello giusto lo decidi tu Adesso non esiste un riferimento alle cose, un senso, non dai tu Adesso non esiste un momento giusto Adesso non esiste un riferimento alle cose, un senso, non dai tu Adesso non esiste un riferimento alle cose, un senso, non dai tu